E' un momento di storia vera e oggi ne abbiamo fatto grata memoria, tra l'altro con la fortuna di avere con noi l'altro protagonista che è stato Monsignor Cantisani. Ma come ho detto e richiamando le parole del Papa, dette al campo sportivo di Catanzaro, questo altare richiami ognuno di voi che deve essere una pietra viva per costruire una chiesa bella, una comunità bella e significativa. Ed è questo l'agurio che faccio ad ognuno di voi. L'altare è ancora, ho detto, richiami il nostro battesimo, come l'altare è vestito, ornato, abbellito, incensato, così quando eravamo bambini siamo stati vestiti, abbelliti, benedetti e poi abbiamo ricevuto il battesimo. E così è la nostra vita un richiamo a questo grande valore della fede, che non è un riempiettivo della vita, ma è il cuore, il senso, il dono più grande che Dio ci ha fatto. E' un evento che rimarrà nella storia della città, della comunità intera, ma direi dell'intera Calabria, perché in effetti rimane l'evento più significativo che ha rappresentato per l'amministrazione dell'epoca, ma per l'intera città un momento di mobilitazione, un momento anche di ritrovarsi, ritrovare la propria identità, la propria storia, perché un papa che veniva in Calabria dopo secoli non poteva che interessare l'animo, la storia, la cultura di questa società, di questa città. Ci fu una mobilitazione incredibile, ricordo che l'amministrazione in tutte le sue componenti fu chiamata a dare prova di efficienza, di efficacia della propria azione e mai come in quel momento ci fu unità di intenti da parte di tutte le forze politiche che capirono l'importanza e il significato di quella presenza storica. Ma io voglio ricordare soprattutto le parole che San Giovanni Paolo II ebbe a dire in quella circostanza, che stamattina in parte sono state ricordate anche da Monsignor Bertolone, e che cioè il papa Giovanni Paolo II sin da allora ebbe ad invocare un impegno unitario da parte di tutte le componenti sociali, politiche, culturali, istituzionali, per fare sintesi intorno ad un progetto di cambiamento, di riscossa di questa terra. Purtroppo devo dire che a 35 anni di distanza quel messaggio rimane di una drammatica attualità e forse il significato di questa manifestazione di oggi deve essere indirizzata proprio a questo. Io mi permetto di lanciare un appello che cioè questa data del 6 ottobre si è ricordata ogni anno perché è un ricordo doveroso verso un evento storico che rimane irripetibile nella coscienza di ognuno di noi e per quello che riguarda me credo che mi abbia segnato positivamente. Che sono emozionato come quel giorno lì dopo 35 anni. Ho ricordato che allora dissi al papa, un papa ha fondato questa chiesa, un altro la viene a rifontare, è una chiesa nuova. Io voglio sperare che questa celebrazione così bella e così significativa voglia appunto significare l'impegno da parte di tutti a fare la propria parte per costruire una chiesa bella, una chiesa che rivela il volto di Cristo e perciò aperta, che dialoga, che vuole bene a tutti e che si impegna davvero per un monto sostanziato di pace. Abbiamo restituito l'altare alla città, era quello che c'eravamo prefissi di fare sia come amministrazione comunale che come arci di Ocisi. Sono soddisfatto della giornata perché questo è un patrimonio che appartiene alla città quindi non solo come memoria ma anche come opera d'arte. e seguirà una mostra che è all'Existac per un mese e poi l'altare troverà una sua collocazione definitiva così come è stato restaurato all'interno del Parco della Biodiversità grazie alla disponibilità del Presidente Sergio Abramo e del Presidente Michele Traverso che hanno effettivamente collaborato a che questo sogno nella città si realizzasse.